Buongiorno a tutti, oggi è il 25 di gennaio, ormai siamo quasi alla fine del mese, andiamo a fare un'analisi sulle nostre candele daily, al momento è tutto abbastanza tranquillo, questa settimana visto anche il nuovo anno cinese e non ci sono veramente forti movimenti, però andiamo a vedere in primo luogo le nostre grafici e anche il calendario. Allora partiamo con il calendario, un calendario vedete che vi faccio vedere ieri, c'è solo stato questo dato negativo sull'indice del retorno degli acquisti, poi abbiamo avuto un dato anche negativo sull'indice PMI del Regno Dito, invece il legge del retorno degli acquisti del settore manufattiero è stato positivo, il legge del retorno degli acquisti anche questo è un dato negativo, poi abbiamo avuto nel pomeriggio un dato molto importante, vedete l'IPC trimestrale è andato a 1.4, l'inflazione è salita di 0.1. Oggi, mercoledì, oggi abbiamo ancora qua festa Cina, abbiamo l'inflazione sull'Australia che è aumentata di 0.3, poi avremo l'indice info sulla fiducia delle aziende, poi il rapporto sulla politica monetaria, la decisione sul tasso di interesse del Canada, vedremo se salirà del 0.25 da monitorare e poi le scorte di petrolio e poi la conferenza stampa. Grafici, Euro-Dollaro, vedete che per il momento l'Euro-Dollaro dopo la candela del giorno precedente, il 23, è stata una candela positiva, ieri un'altra candela positiva non ha rotto il massimo, siamo probabilmente in un momento di stasi, fermo, saremo a vedere se rupsciraron per quello 1.9044, la sterlina, la sterlina ieri dopo aver visto i dati c'è stata, vedete che questa resistenza sta tenendo, è molto forte, anche quella del 12-13 di dicembre, vedete che siamo qui su, io l'ho fatto una candela negativa, per il momento però vedete che adesso potrebbe chiudere il ciclo e andare a prendere questo 1.21.460, stiamo in attesa di vedere che cosa succede, poi andiamo a vedere il VIX, ecco qua, il VIX che ieri ha fatto un'altra candela negativa, vedete che come vi avevo detto non vuole salire per niente, vedete che è fermo, possiamo dire che siamo in una fase di lateralità, vedete che qui non si sta muovendo, poi andiamo a vedere l'indice del dollaro, l'indice del dollaro, la musica è come l'Euro, vedete che è tutto fermo, niente, non si sta muovendo niente, è inutile aprire posizioni, poi andiamo a vedere il Dow Jones, Dow Jones che ieri ha fatto un'altra candela positiva, ha fatto, ha rotto il massimo della candela precedente, attenzione perché adesso questo, possiamo vedere se questo qua è la partenza del ciclo, vedete che qui siamo alla diciottesima, questo potrebbe essere anche il mezzo ciclo, probabilmente vedete però siamo in una fase di fermo, vediamo 34.679, vedete che qui siamo veramente in una fase di lateralità, tanta incertezza, l'SP500, l'SP500 anche lui ieri ha fatto una candela negativa, vedete che quella resistenza dinamica sta tenendo, per il momento vedete che è lì fermo, vedremo se riuscirà ad andare a prendere quel 4.191, per il momento starei molto attento prima di aprire posizione perché c'è tanta incertezza, poi il DAX, anche lui ieri ha fatto un'altra candela negativa, vedete che non si sta muovendo, siamo fermi, io penso che fino alla settimana prossima non vedremo forti movimenti, per il momento comunque il trend rimane a rialzo, il MIB, vedete che il MIB, eccolo qui, il MIB vedete anche lui, una altra candela negativa, anche qui non si ferma, vedete che per il momento siamo in attesa di vedere la settimana prossima, per il momento questa settimana sarà tutto tranquillo. Dopo il MIB andiamo a vedere adesso il GOL, GOL che ieri ha fatto un'altra candela positiva, vedete che se continua a salire, vediamo se arriverà a prendere quel 1.984, per il momento il CICO che è partito il 15-11 è a rialzo, per il momento è inutile aprire posizioni show, per il momento dobbiamo aspettare e vedere cosa succede. Poi andiamo a vedere il Petrolio, Petrolio che ieri ha fatto una candela negativa, vedete che come quello 81 non riesce a rompere, non riesce ad andare a quello 84, per il momento stiamo a vedere, oggi ci saranno le scorte di petrolio, questo potrebbe essere il mezzo ciclo, staremo a vedere che cosa succede, per il momento la media 200 è anche rivolta verso il basso, inutile aprire posizioni, no, per il momento io direi di aspettare. Poi il gas, gas che per il momento, vedete che il gas continua la sua discesa, vedete che per il momento non ci sono le condizioni di entrata. vi voglio far vedere Unicredit, come chi ha chiesto Unicredit, vedete che Unicredit si è salito dal minimo fatto in aprile 22, vedete che è salito qui dal 50%, per il momento anche qui aspetterei, vedete che però Unicredit sono anni che fermano in fase laterale tra i 7 e 19, per il momento anche qui, finché non romperà questi massimi, inutile parlare di long, per il momento siamo tanta incertezza. Poi andiamo a vedere anche una cosa molto importante, vedete che lo metto sul daily, eccolo qua, andiamo a vedere il nostro platino, vediamo come si è comportato il platino, allora l'ora in giù se per il momento è fermo, non ci sono notizie nuove, il platino, il copper anche lui è sempre rialzo, però sicuramente è un momento fermo, perché è normale, perché la Cina è ferma, e poi andiamo a vedere il nostro platino, che per il momento è lì a 1060, comunque il trend è long, e anche qui per il momento bisogna aspettare la settimana prossima. Io vi auguro ancora a tutti una buona notte, una buona giornata, buon trading, e ci sentiamo domani. Ciao a tutti! Ciao a tutti!